Erano circa le 2.30 quando gli agenti della Polizia di Stato, a sezione volante in via lente, notavano un'autovettura che procedeva alternando brusche frenate ad accelerazioni repentine. L'autovettura fermava la sua marcia all'altezza di un distributore carburante, dove il personale operante procedeva al controllo del conducente, che da subito appariva in evidente stato confusionale. L'uomo alla vista degli agenti si chiudeva all'interno dell'autovettura, inserendo le sicure agli sportelli, e impugnando un coltello di grosse dimensioni, puntandolo su appetto, minacciava il suicidio. Gli operatori della volante cercavano di calmarlo mentre chiamavano il servizio 118, che interveniva prontamente sul posto. Nel frattempo l'uomo, un 37enne salernitano, con una manovra repentina percorrendo il lungo tratto dell'arteria stradale contro mano, si dava alla fuga in direzione Ponte Cagnano. Una folle corsa, fermata a Bellizzi, nei pressi dell'abitazione della moglie, dove il 37enne ribadiva di volerla farla finire agli agenti. Sono riusciti comunque a farlo desistere, facendosi consegnare il coltello di circa 35 centimetri di lunghezza. Nel frattempo, gli accertamenti fatti attraverso la sala operativa consentivano di accertare che l'uomo pochi giorni prima era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. A questo punto gli agenti hanno verificato anche le condizioni della moglie e dei figli minori, che per fortuna non avevano subito né sentito nulla di quanto accadeva. Subito dopo, l'uomo, dopo essere stato sottoposto ad una prima visita medica dai sanitari del servizio 118, veniva poi trasferito presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno e ricoverato presso il reparto di psichiatria per le cure del caso.